benvenuto su host academy questa è la prima lezione integrale di un corso completo se trovarai l'argomento interessante puoi attivare l'abbonamento annuale con il quale non solo avrai accesso al video corso completo ma anche ad oltre mille video lezioni con test finali e certificati di frequenza in descrizione troverai un'offerta a te dedicata limitata nel tempo buona formazione tramite il file robots.txt è possibile impedire agli spider dei motori di ricerca l'accesso e la relativa indicizzazione di determinati elementi del sito tra cui anche le immagini una possibile alternativa con cui controllare l'indicizzazione ma non la scansione delle immagini è l'utilizzo di un meta robot specifico no image index questo meta robot è inserito nella head di una pagina indica gli spider che le immagini contenute in quella pagina non devono essere indicizzate. Screaming frog ti fornisce un'analisi anche delle pagine contenenti questo meta robots una volta effettuato il crawling del sito accedi sul tab di rectis e seleziona il filtro no image index l'elenco filtrato ti mostrerà le pagine del sito contenenti il meta robots no image index spero che questa prima lezione sia stata di tuo gradimento ti ricordo che su host-academy.it troverai il video corso completo insieme ad oltre mille video lezioni sui più disparati argomenti dal digital marketing a come costruire un sito web o un sito e commerce con l'abbonamento annuale hai quindi accesso a tutte le video lezioni che a tutte le nuove che andremo a creare nel futuro in descrizione troverai un link con un'offerta dedicata a te limitata nel tempo approfittane buona formazione